aggiungo una seconda parte in questo videoclip perché il posto è veramente molto bello vi faccio un po' vedere, ecco quest'angolo qui con anche le immagini di chiusura che avete visto nel videoclip precedente ricorda tantissimo San Pietroburgo, la zona dove c'è il palazzo, quello di stato di forza maggiore quello militare di fronte all'ermitage nella piazza del palazzo, ecco anche questi elementi decorativi guardate qua che bellissimo, il mosaico è proprio una cosa stupenda, veramente un centro commerciale molto bello sicuramente domani verrò qui a mangiare perché ci sono i posti uno più invitanti dell'altro ci sentiamo quindi a domani, ciao a tutti